no 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 proprio non riesce ad andare avanti è stremato gesù l'hanno maltrattato l'hanno picchiato adesso cade per la terza volta sotto il peso della croce è proprio dura è veramente dura ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo diciamo insieme fa che io ti possa aiutare fa che io ti possa aiutare perché a portare le fatiche di tutti certi giorni è troppo pesante fa che io ti possa aiutare perché con il mio bene posso alleggerirti un po fa che io ti possa aiutare perché con il mio rispetto posso consolarti un po fa che io ti possa aiutare